Francesca, è il giorno del tuo rinnovo, rinnovo che ti legherà questi colori ancora per tanto tempo. Ti chiedo quanto sei soddisfatta e quanto orgoglio c'è nel sapere che la società punta molto su di te. Sono molto felice e molto orgogliosa. Avere la fiducia di tutto il club, delle mie compagne, dello staff, del mister, per me è fondamentale. Quindi è davvero una grande emozione. Se dovessi scegliere un ricordo in particolare tra i tanti vissuti in questi anni, qual è il primo che ti viene in mente? Direi la prima partita in campionato con la maglia dell'Inter. È stato veramente bellissimo e c'era tantissimo entusiasmo da parte di tutti e penso che mi porterò sempre dietro questo ricordo. Ricordi le sensazioni di quel momento? Era un misto di adrenalina, di voglia di scendere in campo, anche un briciolo di inconsapevolezza quasi di quello che stava per avvenire. Era un nuovo inizio, era veramente da brividi. Sei tra le specialisti nel tuo ruolo. Quanto è bello sapere di essere un punto di riferimento e un esempio per le tue compagne? Mi dà grande orgoglio e provo tutti i giorni a dare il 100% per cercare di migliorare sempre e di continuare su questa strada. In chiusura ti chiedo, sei cresciuta molto sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo personale? Quali sono ora gli obiettivi che ti poni da qui in avanti? Sicuramente continuare a crescere a livello tecnico, a livello tattico, sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista di squadra. Dobbiamo alzare sempre di più l'asticella per riuscire a competere sempre di più con le squadre più forti. Francesca, grazie, complimenti e bocca al lupo. Grazie, crepi. Grazie.